Questo è un video tech bag diverso dal solito perché sto partendo per la Malesia, per me è tipo tra un paio di giorni, per voi boh non so quando uscirà probabilmente sarò già partito. In Malesia, due settimane, stagione che non doveva essere piovosa ma le previsioni mettono tanta acqua, scopriremo. Ho un sacco di video belli da farvi ma oggi parliamo di quello che mi porto e anche di come lo porto perché qua dentro c'è uno zaino che potrebbe essere la svolta. Tra l'altro apro il pacco con il bellissimo Maker Knife di Giacco, Giacco che è stato uno degli artefici assieme a Yaki, Otto e in realtà chiunque viaggia, che mi ha introdotto a questo brand di zaini che costano troppo ma che sono molto bellini. Tra l'altro questo qua è un negozio di fotografia a caso perché ho comprato lo zaino da Amazon, quindi video non sponsorizzato assolutamente. Ok, questo sarà il mio bagaglio per due settimane più uno zainento complementare. Non avevo voglia di andare in giro con trolley perché ci sposteremo parecchio, ah sono con Alessandro Morolla non ve l'ho ancora detto. Ci sposteremo parecchio, non trascorreremo penso più di due o tre notti mai nello stesso posto e quindi era fattibile con dei trolley ma forse non del tutto. È bellissimo il Maker Knife. E quindi ecco che Peak Design viene in nostro aiuto, cioè basta pagarli immagino, con questo che non è il classico zaino da 45 litri che io ho visto a Yaki, a Otto, a Giacco e a gente varia, ma è la Duff Bag zaino da 65 litri nella quale ci dovrei stare. Ha un botto di cose fighissime, adesso ve le mostro e poi capiamo anche cosa metterci dentro. Allora vedete ha delle bretelle da zaino che hanno però anche delle maniglie qua perché Duff Bag è il borsone, il classico borsone che porti tipo in piscina o per andare a fare sport. E quindi con le maniglie è un borsone ma se no te lo metti come zaino. La prima delle tante figate è che Peak Design ha la qualità della vita. Compri una roba, la paghi tanto, ma è tu che dura per tutta la vita e anzi ha garanzia per tutta la vita. Quindi materiali super premium dovrebbe essere nylon con filato di 600 per tutta la questione, mentre nylon di 900 per il fondo che infatti trovo anche più rigido. Le cernirozze sono proprio super heavy duty, sono resistentissime. Allora abbiamo visto che ha le bretelle da zaino, ad esempio, ma se io non volessi le bretelle... Guardate qua, qui c'è un pivot point, un punto di rotazione, ecco vedete che c'è questo pulsantino, che permette proprio a tutta la bretella di ruotare attorno. Quindi metti che a una certa non me ne freghi più di avere uno zaino, cioè di averlo in configurazione da zaino, questa cosa ruota, vedete ruota, ruota fino a andare a nascondersi dietro questo flap. Tra l'altro il flap, le ho sentite, è chiuso con dei magneti, quindi questa qua ruota qua dentro, si inserisce, anche qua ci sono i magneti, i magneti si ritappano e le bretelle non ci sono più. E quindi è un borsone senza maniglie, in realtà ci sarebbero gli attacchi in cima per metterci uno spallaccio, e quindi portartelo in giro tipo borsone per quando vai a calcio per dire. Ma se no ci sono tipo delle maniglie resistenti in cima, in fondo per manipolarlo, anche sui lati lunghi. Boh c'è un po' di tutto. L'apertura qua che vi ho mostrato, che vedete che si apre in maniera super lineare, perché? Perché ci sono due piccole sbarrette di alluminio che appunto tengono la questione dritta. Poi cosa c'è di fighissimo? Ah vabbè ci sono dal lato interno un sacco di taschine, cernierine, anche queste sempre mega resistenti di materiali super sturdy di Peak Design, che nasce come brand per cose di fotografia se non sbaglio, però anche da viaggio sono tantissima roba. Ecco, allora, lato sicurezza c'erano delle cose molto interessanti, fatemi mettere della roba dentro, tipo una felpa, ok così abbiamo una forma più o meno definita. Questione sicurezza ad esempio, che uno da una borsa che, soprattutto una borsa che imbarca in stiva in aereo, potresti vogliare della sicurezza. E ci sono tutta una serie di trucchetti, tipo le cerniere qua, quelle del tascone principale, ce n'è una che se tiro ha questo bottoncino che quindi si stacca e posso in pratica o allacciarla dentro l'altra e poi richiuderla in questa maniera e quindi allacciate così si muovono assieme e anche se le tiro in giro la cerniera totale resta chiusa oppure addirittura, essendo quella superiore, quella che si apre, posso andare proprio ad allacciarmi ad esempio a questo cosettino qua e se la chiudo a questo punto non vanno più in giro. Certo non è un lucchetto, se uno vuole ce lo mette il classico lucchetto, però è una sicurezza in più. Ma quello che mi ha fatto volare tantissimo è la sicurezza sulle tasche laterali, eccole qua, queste. Che dici boh magari ci tengo le robe a cui mi serve accedere velocemente, tipo passaporto, tipo biglietti dell'aereo, spera un attimo che in aeroporto uno si allunga la mano e te l'apre. Queste hanno un barbatrucco incredibile. Allora qui se io tornassi a drammeggiare nelle mie tasche interne, o meglio cioè nello scompartimento interno grande, c'è qua un piccolo fermaglietto, eccolo qua, salve, che è in corrispondenza di questa toppa nera. Questa toppa nera in realtà è un passaggio tra l'interno e l'esterno, perché se io quando vado a chiudere questa cerniera esterna, invece che lasciarla così penzolante per di fuori, che è la modalità impermeabile dello zaino, la vado a cacciare per dentro e la faccio passare proprio nel famoso buchino nero, tipo così. Poi la cerniera si chiude, hop là. In questa maniera resta un minimo di fessura, lo zaino non è più dichiarato impermeabile, però sicuramente dopo aver allacciato la cerniera nel coso a T, col cavolo che uno da fuori lo apre, ci sono tanti piccoli dettagli che ho. E bene, non lo so, c'erano un sacco di altre cose da dire dello zaino, non me ne ricordo nessuna, tranne che ci sono tutta una serie di cordini in dotazione, perché lo zaino è pieno di questi piccoli passanti che sono mega resistenti, che sono qua, 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 in cima, dall'altro lato, anche qua sotto. Non so, questo qua ad esempio è il lato esterno, se sei in configurazione zaino. E con i nostri amici cordini, che sono chiaramente regolabili in lunghezza, te li attacchi qui e qui, per dire, e poi fai anche l'altro lato della X, e ad esempio hai un portasacco a pelo, un portaroba esterna, un paio di scarpe, che ne so. Ma se no, te li metti attaccati da qua, fai il giro e ti allacci qua sopra, e se li tiri puoi abbassare un po' lo zaino, perché in pratica gli tappano un po' il muso, sacco di roba. Sono piuttosto casato come prodotto. Più che altro, piuttosto che andare in giro nella giungla in mezzo alle scimmie con un trolley e doverlo caricare in motorino, se ci muoviamo il motorino, cioè era comodissimo in Malesia averci un trolley. Ultimissima cosa, promesso, poi passiamo al tech. Come se la metto la roba qua dentro? Ho comprato, spendendo un'altra marea di soldi, le borsette di Peak Design. Cioè sono borsette da interno, si chiamano packing cubes, e sono in formato piccolo che sembra una robetta stupidissima, ma qua dentro ci vanno dieci magliette come dimensione. Tra l'altro ha due cerniere perché ha due tasche, così puoi man mano togliere le magliette dal lato pulito, e man mano che le usi mettele dal lato sporco e restano separate. Ha un po' di robe tipo delle linguette che dici, ma cosa servono? All'apertura veloce, che se fai così però quando ha dieci magliette dentro partono in tutte le direzioni. Però anche per capire quanto potenti sono ste cerniere. Trovare delle cerniere che puoi aprire così. Quindi questo è un packing cube piccolo, questo è un altro packing cube piccolo, quindi siamo già a 20 magliette di dimensione. Questo dovrebbe essere un packing cube medio, almeno lo sento più pesante. Esatto, packing cube medio, è grande come due piccoli e quindi 20 magliette. Dentro questo zaino vanno 8 packing cube piccoli, quindi in 65 litri volendo, visto che sti cosi poi con le cerniere li tiri e quindi ti comprimono anche i vestiti, volendo 80 magliette. Vai in giro solo con magliette? Assolutamente no. Infatti ne ho presi solo tre di cui uno grande, quindi siamo a quattro. Clip posto ma sui packing cubes sono una bomba. Allora, vi do un iPad Air per confronto, oppure un Apple Watch per confronto. Ecco, qua dentro ci sono quattro paia di pantaloni corti, uno lungo, due paia di pantaloni termici, un felpone per la montagna e due paia di costumi. E siamo con il soffietto chiuso, potrebbe essere alto il doppio, perché questa roba quando la tiri comprime. In più il bello di questi amici è che ti portano a essere ordinato. Io ho sempre fatto le valigie buttando la roba più alla rinfusa possibile, ma avendo queste forme così quadrate e soprattutto la possibilità di comprimere, il resto saranno. Questo qua è il marsupio di Peak Design per portare il tech in giro, più una borsetta contenitore da valigia, questo super scompartimentato. Ulteriormente, con un botto di separatori cose varie. Questo qua è di un'altra marca, è di PGY Tech. E questi conterranno il mio tech. Lui in giro, durante il giorno, quando non ho voglia di portare lo zaino, lui in valigia. Allora, a parte i vari AirTag di cui adesso farcirò tutto quanto, Apple AirTag, se avete iPhone o comunque dispositivi Apple, dovete assolutamente avere AirTag nella vostra vita, in giro, per non perdere le cose, per tutto. Purtroppo se non avete iPhone, non sono compatibili con Android, no? In teoria non sono compatibili con Android, purtroppo. Vabbè, AirTag in giro per rintracciare tutto. Solite robe, tipo caricatori, le AirPods, per dire... Cioè, questo qua mi metterò in tasca. Parliamo di roba seria. Cosa avrò dietro nella mia vita di tutti i giorni? Principalmente... Non ho idea se sia già uscito quando voi vedete questo video. Probabilmente sì. Che è chiaramente il nuovo Gimbal Insatra 60 Flow. Quindi Gimbal che... Tac! È proprio marsupiabile. iPhone sul Gimbal, che sarà la mia fotocamera GoTo. L'altra mia fotocamera terrestre e subacquea sarà... Eccolo qua! Questo crocchio incredibile che ho già montato. Che è il manico galleggiante di Insta360. Un faretto subacqueo a caso preso su Amazon per illuminare i fondali, le cose. E... La Insta 1x3 con il case subacqueo. Ma Marco! La Insta 360 X3 è già subacquea? Certo, ma potrebbe essere che faremo immersioni. Perché ci sono dei fondali bellissimi. Ci sono alcuni dei fondali più belli al mondo. In Malesia ci sono i Barracuda che ti vanno intorno, le immersioni, le barriere coralline, le tartarughe, di tutto. E siccome la Insta 1x3, come tutte le action cam, arriva fino a un tot, poveraccia. Però se le compri lo scafandro, arriva a molto più tot. Mi sembra faccia 50 metri questo qua. E tra l'altro è una figata, perché anche se proprio dovesse malaguratamente filtrarci dell'acqua dentro, chi se ne frega, tanto lei è impermeabile di suo. L'importante è che non gli arrivi l'acqua in pressione dei 50 metri di profondità. Non andrò mai a 50 metri. Fate le cose in sicurezza al mare che è pericoloso. Non la vedo qui, ma forse è qua dietro, sì. La sempre presente Insta 360 Go 2. Lei è imprescindibile, tanto cioè occupa lo spazio di un nulla. E assieme a lei chiaramente recupererò il collare che adesso ho nella borsa del volo dell'aereo. E questa qua all'occorrenza te la appiccichi sulla maglietta magnetica, te la metti su una mano. Essendo magnetica di suo la attacchi a un palo della luce, a una macchina. Ma soprattutto, visto che stiamo procedendo per brand, abbiamo fatto un pic design, vabbè, Apple, questa era Insta. Per finire con la roba Insta, grandissimo ritorno. Questo video non è sponsorizzato da Insta, eh. Non è sponsorizzato, lo sto facendo così. Ma per finire con la roba Insta, grandissimo ritorno il mio amato selfie stick da 3 metri in versione sottile. Perché sapete che ne fanno due versioni. C'è questa versione, la vecchia versione, questa qua sottile. E poi c'è quello lì, quello con l'anello giallo, che adesso vedete mi sta tenendo su un fareto spento, che è la nuova versione. Io preferisco questa vecchia perché è molto più sottile, quindi è più comodo da portare in giro. E poi si estende in un attimo così, l'action cam a 3 metri di distanza ed è fighissimo. Altra tecnologia per il viaggio, molto velocemente, caricatore. Caricatore multiporta, ho deciso di abbandonare la USB tipo A. Ormai ho il ribrezzo, il rifiuto per le USB quadrate. Voglio solo USB-C nella mia vita. Ed ecco perché la scelta di questo radicale, ma bellissimo e potentissimo caricatore con 4 porte USB-C e basta. Non ne voglio più sapere delle USB quadrate. Tra l'altro tira 165 watt, quindi può fare o 105 watt su una porta e 60 sull'altra. E quindi caricare a piena potenza tipo il Mac e le batterie del Mavic. Oppure 60-60-30-30, vabbè fa tutte le combinazioni. Costa un pochettino ma non l'ho comprato solo da viaggio, poi lo metterò qui dove attualmente, perdonate il casino, ma ho questo coso vecchio con tutte le porte USB-A che mi fanno impazzire perché non ho mai i cavetti giusti. Altra tech un po' random. Ah, vabbè, l'ho detto il Mac, cioè chiaramente devo portarmi il computer per lavorare. SSD da un tera, aggiuntivo, questo fa sempre comodo, tanto non occupa niente. Lab per il Mac, per connetterci le schede SD, le cose varie. Penso che manchi solo DJI e i vestiti e poi in teoria sono pronto a partire. Ah no, ecco, manca un altro pezzo di tech random. Questo frontalino che mi ha fatto comprare Morolla. Perché, allora, ne andiamo in Malesia per due settimane. E invece che stare qui e stare nei resort e fare spiaggia e le immersioni e le cose varie, andiamo su una montagna da 4100 metri con gli scerpa e due notti e svegliarsi alle due di notte per raggiungere il summit, cose. E proprio in ottica di iniziare la scalata per i 4100 metri, quelle che sono, alle due di notte, ecco che il frontalino mega potente, che costa una... non so se li valga, probabilmente li vale. Però costa troppo, non so se lo consiglio. Cioè, sono 100 euro per una luce, però ha il coso lucicoso. Però no, è quello che il nostro massimo esperto di montagna, Morolla, consiglia. Ha detto che perfino gli alpini si sono gasati. Ho fatto una collaborazione, ha fatto un video fighissimo con gli alpini di recente, cioè tipo pochi giorni fa. Ha detto che si sono gasati anche loro del frontalino. Allora, intanto lo carichi con... ah, c'è la batteria sulla nuca, ecco perché è così piccolo. Ok, ha una 18650 palesemente dentro, ma lo carichi con la USB-C, che è nascosta da questo coso che la rende impermeabile. 2600 mAh, che su una luce ti bastano per decine di ore. Vediamo se riesco ad accenderla senza leggere le istruzioni. Se premo, lampeggia. Sono una quantità di lumen spropositata, cioè proprio può illuminarci l'intero borneo, probabilmente. Se la tengo premuta, così penso sia al minimo. Ma poi c'è tipo la luce focalizzata, la luce allargata, la luce lampeggiante, più forte, meno forte, più calda, meno calda. Così, quindi posso accenderla e spegnerla. Se tengo premuto... ah, più forte. Se tengo premuto, si spegne così, più forte ancora. Se faccio doppio clic... Non lo so, c'è anche una modalità rossa, insomma, in cui ti fa la luce rossa per non abbagliarti. E poi dovrebbe avere anche le gesture, cioè se faccio... Vedi? Ah! Vabbè, comunque avremo la luce per la montagna, per non morire nei sentieri. E quindi tra l'altro in quello zainone devo cacciarci gli scarponi e tutto il resto, penso, ce lo... non leggeranno lì, ce lo daranno lì. Dove il resto è piccozza, ramponi, imbracatura. Perché ce ne andiamo a cercare? Vabbè, droni DJI. Volevo portare, tra l'altro sotto forma di zaino, il mio amatissimo Mavic Pro 3, cose varie. Non penso di portarlo per ragioni di spazio. Potrebbe essere proprio il plot twistone che alla fine lo porterò, ma proprio solo se vedo che ho uno spazio a forma di Mavic che mi avanza su un angolo dello zaino che proprio mi compare un'etichetta Mavic con scritto no. In alternativa, se non dovesse comparire il cubetto con già l'etichetta, sarà lui il Mavic 3 Mini Pro. Perché la fotocamera chiaramente non può competere con un drone che costa il doppio. Però è anche vero che ha comunque una qualità sconfinata, irraggiungibile dalla concorrenza da qualsiasi altro brand. Ha le vite ostacoli, ha tutto quello che serve, le batterie sono leggere, pesa poco. Quindi probabilmente andrò in giro con il Mavic Mini e l'Avata. L'Avata cosa? La biancheria? Allora stendila. No, l'Avata è l'apostrofo Avata, il nostro bellissimo drone FPV DJI, quello piccolo. Avrei voluto farmi una build 5 pollici, bella potente per andare su e giù dalle montagne, dalle palme e inseguire le scimmie. Purtroppo è un casino trovare pezzi di questo periodo. E poi ti serve la DJI O3 per utilizzare gli occhiali piccoli, se no devi portarti gli occhiali grandi vecchio modello. Alla fine un po' per pigrizia, un po' perché non è ancora il momento di fare una build 2023. Finirò a portarmi il DJI Agavata, che cioè alla fine tra loro due quanto mi occupano? Mi occupano una tasca praticamente. E basta perché se no non ci sto nel bagaglio. Quindi questo è tutto, sia per il bagaglio sia per il video. Pollice in su al video. Tanto poi gli importo tutta sta roba ma 95% del tempo avrò in mano lui con l'iPhone. O forse direttamente l'iPhone e basta. Arriveranno video belli in cui seguiamo le scimmie. Sott'acqua. Le scimmie vanno sott'acqua? Non lo so. Pollice in su. Ciao a tutti.